Ormai è possibile definirla una vera e propria emergenza rifiuti, quella che sta intrappolando il territorio agrigentino. I lavoratori della ditta impiegata nella raccolta dei rifiuti non hanno percepito le spettanze arretrate e quindi non resta che portare avanti l'ennesimo sciopero, che è già stato programmato ad agrigento per il prossimo 6 settembre. È ovvio che comporterà nella città dei templi enormi disagi alla popolazione, non solo per l'odore nauseabondo con cui i cittadini dovranno imparare a convivere fino al termine dello sciopero, o per l'immagine indecorosa di una città invasa dai sacchetti della spazzatura di ogni forma e dimensione, ma anche e soprattutto per le problematiche igienico-sanitarie che comporterà. Anche i sindacati e in particolare la FIT-CISL offrono solidarietà ai lavoratori che non percepiscono le loro spettanze a causa anche della sordità dei sindaci, dei comuni che aderiscono al lato GESA, che non hanno fatto nulla in queste settimane per sbloccare una vicenda che tiene con il fiato sospeso centinaia di famiglie. A tal proposito Nino Stella, segretario provinciale della FIT-CISL di Agrigento, sostiene che l'immobilismo delle amministrazioni comunali che non hanno intenzione di anticipare le somme dovute costringe i lavoratori ad incrociare le braccia. I primi cittadini hanno sicuramente preso alla leggera la situazione, ignorando da un lato il profondo malessere vissuto dagli operatori ecologici e dall'altro gli incommensurabili danni causati dallo sciopero ai cittadini, che dovranno fronteggiare l'ennesima emergenza. Ad Agrigento i lavoratori addetti alla raccolta dei rifiuti e le proteste nella città agrigentina proseguiranno ad oltranza, a partire da lunedì 6 settembre, fino a quando non sarà risolta, una volta per tutte, l'annosa questione del pagamento delle mensilità. Grazie a tutti.